E ciao a tutti ragazzi, vi vedremo qui in questo video. Allora ragazzi, in questo video vi mostrerò un acquisto che ho fatto da Amazon, ovvero che mi è arrivato oggi. Volevo fare lo spaccatamento, però mi hanno raminato il video tre volte, che adesso li ho realizzato e andavo a dire più di là i miei miei ceditori o mio nonno. Comunque, vi faccio solo l'audio di quello che ho preso da Amazon, ovvero, questo mi sembra mai preso ragazzi, vi dico che li ho visti da YouTube e appena li ho visti dovevo prendere ragazzi, questi ragazzi. Guardate quanto sono belli. Per io che la crotopassia sono davvero fantastici, perché vi spiego ragazzi, ve lo prendo nei midliners, che sapete che sono i miei settori giapponesi famosissimi. Siamo a prendere i midliners, però ho visto questa alternativa che costa appunto 11,90€, perché sapete che i midliners ci mettono tanto da livare, poi costano parecchio, vengono da Giappone. Questi qua invece ragazzi sono in inglese, sono della Smart Panda e ho visto questa alternativa e appunto me la sono presa e mi è arrivata oggi, ho ordinata venerdì e mi è arrivata oggi. Ma guardate che bei colori ragazzi appunto, appena li ho visti, no, dovevo prendere ragazzi, questi dovevano essere miei, perché sapete che è una crotopassia, un'iniziatore, amo tutto. E questi dovevano prendere ragazzi, adesso andiamo a provare insieme, perché sono stracoloso di tutti questi bellissimi colori, sono 12 ragazzi, cominciamo. Allora, il giallo, sono doppia punta ragazzi, questi vienziatori. E poi il nostro packaging che è davvero fantastico, mi piace davvero tantissimo. L'arancione. Questo, il rosato rossiccio. Il rilla. Il lilla, cioè, sì. Ah, è una scrittura davvero convortevola ragazzi, mi piacciono molto. Poi, questo colore che sono stracoloso di provare, è una specie di indaco, bellissimo. Poi, anche quest'altro colore, questo blu o cero, blu petrolio. Poi, questo bluetto chiaro, bluetto ciano, che è azzurro, bellissimo. Poi, verde acqua scuro. Poi, verde mela. Molto chiaro, colore. E infine, il grigio. Molto bene ragazzi, devo dire che sono molto soddisfatto di questi iniziatori, perché, appunto, hanno, sono davvero bellissimi. E, mi piacciono tantissimo ragazzi, vi sto a consiglio di prendere, perché sono davvero bellissimi, sono un'ottima alternativa, soprattutto i midliners. E, non ho dovuto prendere i midliners, perché non ci metto tantissimo da arrivare. Questi, come vedete, come sono arrivati, gli ordinati illuminativi sono arrivati oggi, mi sono andati pochissimi giorni, e sono davvero ottimi. Poi, hanno questa colorazione, belle e lucide, che mi piacciono davvero tantissimo. Tipo questa, è la mia preferita. E niente ragazzi, appunto, pentate qui sui sistemi all'iniziatore correttamente. Allora ragazzi, le mie colorazioni preferite sono queste qua, di gradazione di blu, ovvero, queste, tutte le colorazioni di blu. E, niente, mi sta a consiglio di prendere, appunto, perché sono realizzatori come me, perché sono fantastici, sono della Smart Panda. Li trovate su Amazon 6, che se cercate i midliners vengono fuori questi, prima dei midliners. E, non so se va bene ragazzi, vi sto a consiglio di prendere, perché sono davvero fantastici. Quindi, ragazzi, se vi piaceva molto, le consiglio. E, niente, se vi è stato piaciuto il video, mettete il like, se vi è il canale, e non ci cercare di capire su tutti i video. Allora, ragazzi.